Grazie a tutti. Quindi bisogna dire no a questa privatizzazione e siamo qui tutti quanti, tutte le sigle unitari, in maniera ferma e convinta per dire no a questa privatizzazione. Dopo questa manifestazione che diciamo è locale, prevedete qualche manifestazione nazionale? Probabilmente ci sarà in atto, noi faremo tutto quello che la legge ci consentirà di mettere in campo affinché tutte le organizzazioni sindacali potranno dire la propria per quanto riguarda quest'ulteriore fase di privatizzazione e quindi una svendita ulteriore. alla quale noi non siamo nettamente d'accordo. Perfetto, grazie e buona manifestazione. Grazie, arrivederci.